buongiorno mis piccoli 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 e grande grandissimi grandissimi amiche mi presento mi chiamo topi topi pernici e questo è il mio nuovo canale e io vi voglio invitare a che mi seguite su youtube e se vi piace qualcosa che me lo lasciate giù mi dite se le piace e cosa devo migliorare cosa le piacerebbe sapere di me come di dove sono quanto anni ho e cosa le piacerebbe che le mostro no? scusate con un italiano perché come ho visto che non sono di qui e quindi perciò non parlo così benissimo buongiorno questo spero che siamo a lungo insieme e piano piano cominciare a portarle delle video in tutto lo che posso fare magari il tag o magari un blog di tutto lo che faccio nel giorno così con la mia bimba come potete vedere il primo video è così corto ma io l'ho registrato così l'ho cambiato soprattutto solo per cominciare e quindi spero che vi aiutate e un bacio a una ragazza che ce l'ha un canale penso che non lo so in Boston non lo so però lei si chiama Jasmine Miquel Wang e lei è una ragazza tanto carina è portorichena di Porto Rico e fa del bel video e mi piace tanto poi gli italiani dopo lì vi dico perché a una ragazza mi piace vedere tanto due ragazze mi piace vedere tanto come sono una perché sono carine come parlano no no fisicamente sino come parlano tutte queste cose mi diverto no? quando stanno inventando dei trucchi con voi anche anche con loro ho imparato tante cose e così insomma un bacione di qui di Trieste spero che mi seguite e se vi piace mi date like poi dopo le aggiungo anche le rete sociali come potete trovare dove aggiungerò delle foto delle cose nuove va bene e dei trucchi che farò queste cose non so tanto solo quello che so e tre lo e si le ricette della cucinare tutte queste cose vediamo sarà un un canale di varietà grazie